Allora, io mi rialgancio alle parole con cui ha concluso la clip Filippo Tramontana che commentava perché tutti noi abbiamo seguito la partita ed era quello lo stato d'animo. Cioè noi non possiamo adesso benissimo i tre punti, però se l'Inter ragiona così, io spero che Inzaghi lo dica solo esternamente, ma se l'Inter ragiona così abbiamo fatto sei vittorie e una sconfitta nelle ultime sette. Quindi c'è questa teoria, la zavorra delle quattro sconfitte perché lì c'era questo male oscuro, ha detto silenzioso, ha detto anche Marotta. Hanno capito il problema, adesso va bene. Qui si sbaglia la diagnosi ed è il primo passo per non risolvere i problemi perché in queste sei vittorie è una sconfitta. Abbiamo visto Torino e diceva l'eccezione, anche Firenze, Bergamo ieri, Barcellona, sono tutte partite. Non come ha detto oggi Marotta in casa e fuori casa, non c'entra niente in casa e fuori casa, è una coincidenza. Perché in casa l'Inter è affrontato, Spezia, Cremonese, Salernitana, San Pogno. Però vuoi che ti dico una cattiveglia? Quando si alza l'asticella, Maurizio, la fase difensiva va rivista e oggi Marotta giustamente dice i compiti per le vacanze. Perché l'asticella, se tu non l'alzi, il conto che torna è che se l'Inter non fa almeno tre gol a partita, è probabile che non venga. Ma non si può vincere le partite 5 a 4 ogni volta. Allora, tutto non è solo i difensori, anche magari un assetto generale, il ritorno di Brozovic, magari anche Lukaku che ti può far giocare un po' baricentro più basso. Ma cambiare dei giocatori, per esempio Andanovic-Onana, non è un caso, non è solo la soluzione Onana, però da quando c'è Onana qualcosa di meglio da quel punto di vista si è visto. De Vrij è un anno e mezzo che sbaglia partite come quella di ieri. Allora o Skrini al centrale, o Alcerbi che magari in questo momento dà più sicurezza, più cattiveria agonistica. Dietro sicuramente così non va e mi fa piacere che oggi Marotta l'abbia comunque... E io voglio sapere, Paolo... Volete sapere perché secondo me, secondo me è una teoria... 18 gol subiti fuori casa in 8 partiti. No, 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 ma io ho detto prima 22 complessivi, quindi è tutto dire. Secondo me la mancanza di Brozovic è determinante. Su questo non c'è dubbio perché copre gran parte del capo. E qualcuno dice che Brozovic è un problema. Ma sapete dove sta un altro problema in questo momento? L'alternanza di forma di Barrella che tatticamente... Un minuto gioca benissimo, un minuto gioca benissimo. Ma tatticamente non è la cosa sua principale. Mentre invece agonisticamente può essere di aiuto alla squadra. Ma lui quando non è in forma, tatticamente crea sempre quel che crepa e costringe difensori sull'uno contro uno. Cosa che... Sì, ma sono tutti trequartisti a centro campo. C'è la nobile trequartista, Michi Tariana e trequartista. Cioè ci vuole intervizioni. Fatti sentire un attimo Paolo, perché io vorrei accomunare Allegri e Inzaghi. Ma allora... Ha una storia quasi parallela, anche se le motivazioni sono opposte. Secondo me la sintesi fuori di posizione e di classifica, perché se no ci accontentiamo del banale, sono protagonisti di una stagione deludente, per ragioni diverse, no? Ovviamente, e in fasi diverse. Secondo me più grave è quella di Allegri fuori dalla Champions. Poi sono due allenatori che possiamo accomunare solo in questa chiave di lettura, perché Inzaghi, seppur non in modo così ricco, è un allenatore che privilegia il gioco. Allegri invece, come abbiamo visto, privilegia il contropiede e l'individualità dei giocatori. Allegri non so se è obbligato o comunque ha fatto vedere di voler lavorare di più sui giovani che lo stanno tenendo in piedi, anzi sono quelli che hanno dato la scossa. Inzaghi invece è molto conservatore sugli acquisti giovani dell'Inter, perché giocano troppo poco. L'Anibel, Lanova e Carboni. Però io li accomunerei da una stagione deludente, che non va letta nella posizione di classifica, che è dignitosa ovviamente, anche buona, no? Potenzialmente. Ma dal gap visto nelle prestazioni e nella continuità rispetto a un'altra squadra che si chiama Napoli. E l'ultimo sondaggio era Inzaghi, ha ragione sì oppure no? Avete risposto al 42% sì, 58% no. Quindi insomma non credono alle parole di Inzaghi. Possiamo vedere con la grafica, perché potenzialmente gli obiettivi del club nero-azzurro sono due in questo momento. Noi stiamo parlando di Jesus Vázquez, talentino del Valencia del 2003, e di Marcos Turam. Invece attaccante del Borussia Mönchengladbach, che quest'anno è veramente esploso, perché ha fatto 10 gol in 15 gare e 3 gol nella Coppa di Germania. Ma questa cosa credo che interessi particolarmente a Michele. Tra l'altro poi voglio chiedergli se ha dei riscontri, in questo senso, dentro al mondo interista. Oggi ha giunto anche da Deschamps nella lista per il mondiale. Sì, esattamente, come 26esimo. Allora, Jesus Vázquez, del quale poi abbiamo una grafica. Parliamo di un giocatore che quest'anno con Gattuso ha un minutaggio bassissimo. In Spagna hanno scritto che lui ha una clausola per la quale, se non gioca a determinate partite o numeri, non viene impiegato per certi minuti, si può liberare e può andare a giocare in prestito. Dunque, l'Inter è molto forte su questo giocatore, però con la concorrenza della Benfica. Dalla Spagna ho saputo io questa mattina che per il trasferimento in prestito all'Inter ci sarebbe il gradimento del giocatore, in particolare del padre. Perché ha parlato con i giornalisti spagnoli, il padre curiosamente è il direttore sportivo dell'Osasuna. Stiamo parlando di Jesus Vázquez, magari possiamo far vedere anche la grafica di questo giocatore, che ci sono i numeri. Ma l'Inter perché sta provando ad andare su Jesus Vázquez? Devo dire che c'è anche la concorrenza del Benfica. Attenzione, non parliamo di un club da poco. Qua sono i numeri del giocatore, vedete, è nato gennaio 2023, ruolo laterale sinistro, scadenza contatto 2025, il suo valore e le sue presenze in Liga. Molto poche fin qui. Però l'Inter chiuderà, proverà a chiudere l'affare, stiamo parlando di un prestito leggermente oneroso, Michele, fra il mezzo milione e il milione di euro, con un diritto di riscatto tra i 6 e i 7. Ma l'Inter lo farà solamente se riuscirà a cedere Gosens. Ti chiedo su questa cosa, poi parliamo e diamo un aggiornamento su Marcos Turam, se dentro al mondo Inter hai questi riscontri e come valuti questa strategia. Sì, se ricordate anche le ultime ore di mercato c'era stato questo blitz del Bayer Leverkusen, poi loro hanno un po' smentito, però era vero. Per Gosens. Adesso lui è rimasto veramente molto deluso dalla non convocazione, però il CT ha detto giocavi poco. Lui ha sempre questo sogno di tornare in Bundesliga. A me dispiacerebbe tantissimo, perché lì ne servono due e di Marco e Gosens, secondo me, si possono anche alternare. Però certo, se arriva un club tedesco che poi ti offre veramente prestito oneroso, ma oneroso, per poi quindi far capire che lo vuole, a circa 25 milioni, a bilancio è stato preso per 27 Gosens, quindi è una cifra abbastanza alta. Tu dicevi giustamente che questo talento del Valencia è coperto anche da Gaia, che è forte, è un nazionale, ma si parla anche in Spagna molto bene di questo ragazzo giovane. Sarebbe un'operazione? Sì, è un 2003, non ha un costo elevato, tu praticamente vai, se emetti l'obbligo, a recuperare un po' di soldi da Gosens. Sì. E partirebbe, Paolo, ovviamente, se lui chiede la cessione, perché si vede troppo, diciamo, sorpassato da Di Marco, con poco spazio. Esatto, ti fermo un attimo, perché poi l'Inter sta valutando anche davvero, ma anche qui non è semplice fare questa operazione, perché c'è molta concorrenza. Stiamo parlando di Marcos Turam, attaccante, tra l'altro, come diceva Michele Gianni, convocato dalla nazionale francese in Estremis. Quest'anno forse è l'inizio di stagione più convincente, perché abbiamo detto, no, ve lo dicevo prima, dieci gol in quindici partite, tre in Coppa di Germania. Qual è la particolarità di questo giocatore, Maurizio, che ha il contratto in scadenza a fine stagione? E quindi l'Inter sta facendo una valutazione, perché ovviamente anche in prospettiva, lui è un 97, va a rinforzare il reparto offensivo, dove è vero che allunghi il contratto a Dzeko, però stiamo parlando di uno che avrà 37 anni. Correa non sta convincendo. Paolo, quell'estate di Correa, Turam, sarebbe arrivato se non si fosse fatto male all'ultimo. L'Inter aveva già l'accordo, 25 milioni, queste sono le famose sliding door, alla fine si fa male, tanto che l'anno scorso, anche se poi a un certo punto ritorna, ma non è stata una buona stagione, adesso invece è in piena forma e sta facendo benissimo. Però adesso, attenzione, non so se ti risulto perché in Germania hanno scritto che il Bayern Monaco sta drizzando molto le antenne, però c'è un vantaggio su Turam. A me piacerebbe tantissimo a posto di Correa. Turam voleva venire all'Inter, aveva già l'accordo con l'Inter, poi è saltato come ha detto lui, ed è italiano, perché è nato in Italia. Figlio di Lilian. Il figlio di Lilian è nato a Parma, quindi è impiegabile, teoricamente non è italiano di federazione, però teoricamente con una procedura, se questa procedura portasse avanti negli anni, potrebbe sfruttare il vantaggio dell'essere italiano. Resta un fatto che lui ama l'Italia e l'Italia gli andrebbe benissimo. E questo non è un elemento da poco. Quest'anno sta segnando tanto perché gioca a numero 9. Gioca a numero 9, mentre lui prima, quando ha affrontato l'Inter in Champions, giocava esterno, adesso è diventato un numero 9. L'Inter quando lo cercava, mi ricordo già, i dicenti dell'Inter lo vedevano come centra avanti, quindi impostarlo come in effetti poi adesso sta facendo. Tanto che l'ultima cosa, aggiungo Paolo, anche vediamo Lukaku come va a finire, se starà bene si punta al riscatto, ma potrebbe anche essere visto nel caso in cui... Davanti di fare queste operazioni, Gianni comunque per essere, voglio dire, l'Inter in una società potenzialmente in vendita, conti da sistemare, se riuscisse con la partenza di Gosens a chiudere queste operazioni sarebbe un mercato creativo, per gennaio tutto sommato. Sicco dovessi.